appassionati di gossip tv bentornati nel mio canale oggi parliamo dello scontro tra pierpaolo pretelli e dajani mello l'aria in casa era tranquilla ma per un gioco di tommaso zorzi l'atmosfera si è riscaldata portando a una forte discussione tra i due vipponi chi non merita di andare in finale questa è stata la domanda di tommaso dajani con molta sicurezza dice pierpaolo perché si è fatto conoscere solo dalle sue due donne e che col ragazzo proprio non riesce a trovare un punto d'incontro giulia si intromette chiedendo alla brasiliana se quindi la vuole fuori dalla casa e dajani risponde di sì sottolineando che per loro è pesante assistere sempre ai loro blocchi di coppia durante le puntate pierpaolo prova a difendere la sua relazione ma dajani lo gela dicendo di averlo visto innamorato di due donne nel giro di pochi mesi secondo il ragazzo la modella brasiliana è solo invidiosa perché anche lei ha provato a farsi delle storie nella casa senza però riuscirci e voi che ne pensate fatemelo sapere nei commenti al prossimo video ciao